Musica Musica Eccoci qui con la partita piena iniziata tra Genesis e Neapolis Mamma mia e ce la rete non se l'aspettava il portiere scoraggiato ed è 1 a 0 per i Neapolis con il gol di Valentino Ma chissà una gagnata e felpa mannaggia Balla per Valentino Con destro che gol di Valentino Io dice mamma mia che grezza 2 a 0 Mi ha dato un nome sbagliato allora Si fermerà a che gol Eh lo so Però io dice per Calabro a tu per tu Calabro Che gol di Neapolis Ciao a voi Vabbè già fai saltare un po' che altra volta lo feci così mi veni a abbracciare Era un po' particolare che era nato la polpa Ecco quel corso puoi fare la magistrale in economia aziendale Sì io ho fatto un aziendale Ho fatto management delle imprese internazionali Che non sta alla Federico II Sarebbe un'economia aziendale più improntata Uuuuh c'era quasi Io ho dicendo Ho curriculum a terremoto per un periodo Ma perchè curriculum di quello che eravano adagiato da qualche periodo Però ho capito loro ne volevano qualcuno di avere esperienza Da Mariano Da Mariano Ancora Polzella Numero di Polzella Polzella per Sanataro Sanataro Ancora Polzella Tenta il tiro Di poco a lato Aspetta ragazzi più decisi ragazzi Più decisi Sanataro per Polzella Ancora Polzella Col destro C'è la rete Di Polzella Per il Genesis E c'è la rete Per il Genesis Di Balido che esulta la Suarez Che rete Ancora Balido Parti velocità Tu per tu col partire Balido Grande parata di Calabro Bella azione di Balido Alla è per Sanataro Sanataro Numero di Sanataro Gioco di prestigio Sanataro Se ne va sulla fascia Metti in mezzo Guarda Valentino Valentino per De Vita De Vita Col destro a giro Cosa Tiro lento Mamma mia Mamma mia Mamma mia San Casanno Guarda De Vita De Vita A tu per tu De Vita Polzella E c'è la rete E c'è la rete Tutti in campo a festeggiare C'è la rete Dei Neapolis Con Polzella Netta Dei Neapolis Eccoci qui con i due migliori in campo della partita Polzella E Iodice Hanno giocato davvero bene Che ne pensate di questa partita? Come è andato? Ne abbiamo giocato bene Non era difficile da vincere Va bene Che ne pensate di questo campionato? Cosa potete dire? Siamo a vincere il campionato Eh va bene Siete uomini di grandi aspettative Va bene ragazzi Arrivederci Grazie di tutto